Buondi amici di Daily Qua, mi è arrivato un pacco da parte di mamma e ora vediamo cos'è. Ok, sono vestiti rosa, pastello e pelosi, guardate, peloso, peloso ragazzi, peloso. Ok, magliette da mettere sotto che amo, io praticamente uso le magliette della salute tutto l'anno. E poi mi ha preso questo qua che dovrebbe servire per avere meno problemi di emicrania, proveremo anche questo. Tanti nell'ultimo video ci avete chiesto aggiornamenti sul proiettore quando arriverà il video, allora arriverà a breve sul primo canale. Devo dire che sono soddisfatto, non voglio farvi vedere tanto perché voglio che guardiate il video sul primo canale, ma devo dire che è molto molto figo. È stato un po' un casino calibrarlo perché essendo molto molto vicino al soffitto è difficile posizionarlo precisamente perché ogni minimo micro movimento comporta un grande movimento sulla parete. Perché calcolate che tipo da 30 centimetri fa un'immagine di 3 metri, però è veramente veramente figo. Nel frattempo qui mi sono messo a passare tutti i vari file, quello per il video del NAS e anche per il proiettore, perché devo sistemare un po' di roba e dobbiamo sistemarla anche dentro il NAS. E oggi vorrei riuscire anche a provare un po' di questa roba qua, perché è rimasta tutta qui. In realtà ci sono tutti i vari accessori, tutte le varie cose di Edelkron che avevo preso per appunto il braccio motorizzato, ma non ho ancora avuto tempo di aprirlo. E direi che è una buona occasione. Non so se riuscirò a montarlo tutto adesso, magari più tardi, vediamo. Però volevo vedere che ci fosse tutto e se ci sono anche delle batterie da mettere in carica magari le mettiamo. Questa è la testa, credo, perché è il pacco più grosso. Madonna, quanto l'hanno fatto preciso. Ok, guarda tutto nero opaco. E questa è la testona. Madonna! Madonna! Ma quanto è grossa! Ok, qui bisogna attaccarci questa staffa alla quale poi si può attaccare la fotocamera. E la cosa figa è che qui, vedete, ci sono tutti i vari attacchi per i moduli o collegare tipo la fotocamera, eccetera, tipo il laser che ho anche preso. È un modulo che praticamente va attaccato qui e c'è proprio una testina laser che punta all'oggetto. Penso vada infilato qua, non sono sicuro. Va a puntare l'oggetto e praticamente ti fa in automatico il tracking di quell'oggetto lì. Questo è per l'alimentazione, questo è per la fotocamera, link 1 e link 2. In realtà non so a cosa servono. Adesso magari lo scopriamo. E questo è il flat per passare tutti i cavi. Ok, apriamo anche questo. Apro quelli più grossi adesso e dopo vediamo di montarli tutti insieme. O al massimo lo facciamo domani, vediamo. Madonna, davvero hanno fatto le confezioni super su misura. Ok, ecco... no, questo... Ah, mi ero completamente dimenticato di averlo ordinato. Questo è il modulo per la messa a fuoco. Praticamente c'è questa piccola ghiera che va a appoggiarsi sull'obiettivo. Ovviamente sarebbe meglio in realtà che avesse proprio questa dentatura, in modo che si aggancia e proprio va a farti la messa a fuoco precisa. Tutto quanto a batterie oppure con l'alimentazione. Allora qui cosa che c'è? Questo è un cavetto... Ah, figo! Mi sa che all'interno danno... Ah, ne danno più di una! Praticamente sono delle sie dentate che vanno messe attorno ai vari obiettivi e poi strette con questi attacchini qua e permettono di avere appunto su qualsiasi obiettivo, anche quelli che non ce l'hanno tipo questo, la dentatura per poter avere un attacco preciso con questa della messa a fuoco. Figata! Apriamo questo e poi il resto lo apro dopo con calma. Quest'ultimo invece penso sia il modulo laser che appunto, come dicevo prima, serve a traccare l'oggetto o quello che... Vediamo, user manual... Vediamo, vediamo, vediamo... No! Scherzavo! Scherzavo, mi ero dimenticato anche di questo. Ma è passato talmente tanto tempo, sono passati due mesi quasi che non ho più provato niente. No, due mesi no, però un mese sì. Questo qui è quello che mi va a svoltare il GB1. Praticamente il GB1 è figo, ve l'ho fatto vedere l'anno scorso, perché può fare su, giù, si può inclinare a un certo angolo o orizzontale, però va cambiato manualmente. Questo qui invece permette di agganciare il GB1 sopra e tu poi puoi metterlo in modalità verticale e basta, il GB1. Cioè puoi metterlo in qualsiasi posizione, ma non ha senso, perché questo qua ti va a consentire di fare tutto il resto dei movimenti anche se il GB è in verticale, perché questo qui lo fa ruotare completamente e ci permette di avere la testa motorizzata a 360 gradi in tutte le direzioni, su, giù, destra, sinistra, 360, si può ruotare. Perché è una bomba. Davvero, più che altro vanno tutti con le LPSI oppure con l'alimentazione, ma devo studiarmi un metodo, perché io ho preso gli alimentatori, ma ho anche le batterie. Devo studiarmi un metodo per avere un alimentatore unico e far andare tutto quanto. Se avete qualche consiglio, scrivetemelo nei commenti. Poi magari adesso in questi giorni lo provo un po' e vediamo. Voilà! Non vi ho fatto vedere il pre, però ho messo i profili. Adesso sono solo appoggiati. Sono andato a tagliarli. Questa è la parte frontale. Adesso devo andare a fare anche tutti gli altri. Non penso di riuscire a farli tutti adesso, però almeno questo per la cucina, diciamo, c'è. Che è quello che si vede di più e faceva brutto. Questa qua dobbiamo cambiarla, però vabbè, per ora intanto rimane così. Diciamo che questa qua è fissata bene, quindi non ho voglia di mettermi a toglierla, perché devo anche fare tutti i tagli di là. Questa qui, così ci sta. E piano piano procediamo anche con tutto il resto. Volevo condividere... Oh, madonna! No, no, grazie, non serve. Preferisco che vedano male. Ragazzi, volevo condividere con voi questa shagura. Cioè, no, più che altro è da un po' di mesi che su YouTube c'è una quantità di pubblicità allucinante. Veramente, partono due pubblicità di fila ogni tre secondi su qualsiasi canale e è diventato inguardabile. Ho fatto YouTube Premium perché non possiamo più vedere niente. Non ne ho idea. Cioè, a me teoricamente dovrebbe anche andare meglio, no? Perché dite più pubblicità guadagni di più. No, il cazzo. Perché mettono più pubblicità. Eh, no, vabbè, mettono più pubblicità e comunque non si guadagna niente. Vabbè, niente. Volevo solo condividere con voi questa cosa. Che hai ceduto al terrorismo delle pubblicità di YouTube. Sì. Vi presentiamo Ivy Russa, ragazzi. Nasconde il musino. Però guardate come ci sta col cappello. Ivy, guarda qua. Ma non si fa problemi che le cada davanti agli occhi. Perché? Guardate che bellina. Come ne sta il cappello? Ivy? Tutto a posto? Ah, sento, da qua si vede meglio. Ma il bello è che sembra intellettuale. Quanto è buffa. Ragazzi, voglio comprare un cappellino da cani a Ivy. Mi spiace Ivy, lo voglio fare. Non gliene frega niente, comunque. Cioè, lei non le dà alcun fastidio. Sì, tira. Non le dà alcun fastidio. Com'è possibile? Non lo so. Beh. Qui perciò.